1, 2, 3 Mamadema, il tuo grande pieno da sorrida Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Mamadema Animation TV Altri accorgimenti ragazzi Proponete agli ospiti playlist differenti ogni giorno Con canzoni di vano genere, naturalmente d'ascolto Vi consigliamo di creare in totale 21 playlist più o meno differenti 3 al giorno, per la mattina, per il pomeriggio e per la sera Fate partire la vostra playlist scegliendo brani che possono piacere agli ospiti Proponi quindi canzoni italiane o straniere del momento Non rap, non techno o da discoteca E neanche l'inverniera di notte di neuro Qualcosa che possa essere gradita per tutte le fasce d'età presente nella struttura Quelli dei bambini, ai signori di un'età un po' più avanzata Cercate di accontentare agli ospiti dove è possibile con le vostre richieste Senza che diventi un'abitudine Il DJ è della struttura, non di un'unica persona Quindi se vi fanno una richiesta accontentatela Ma non fate che questo diventi appunto, ripeto, un'abitudine per tali persone Cercate di moderare il volume delle vostre casse, del vostro impianto audio A prima mattina cercate di non spararlo Ma di salire gradualmente con i volumi Man mano che la mattina di tanta parte teorica Ma c'è solo bisogno di una grande conoscenza musicale Adesso vediamo come crearla Ad esempio utilizzo iTunes Aprendo iTunes possiamo vedere come io abbia già creato delle scalette Per le stagioni passate L'importante, come possiamo vedere, è che le canzoni siano abbastanza varie Di vario genere, passano dall'italiano allo straniero Canzoni contemporanee, canzoni vecchie, successi del passato Bisogna saper scegliere musica che possa andare bene per qualsiasi tipo di persona Perché ci dobbiamo ricordare Quando selezioniamo una scaletta per l'ascolto L'importante, o mio consiglio, è quello di selezionare la dissolvenza dei brani Affinché non ci sia il distacco tra un brano e l'altro Per mettere la dissolvenza dei tunes basta cliccare su iTunes Preferenze E prendere la riproduzione dissolvenza brani Stessa cosa si potrà fare su altri strumenti di riproduzione musicale Altri software quali Windows Media Player o VLC Si troverà sempre nelle impostazioni del suono Si inoltre Detto questo, il vostro ruolo più tecnico è terminato Ragazzi è stato un piacere anche questa volta farvi questo tutorial Per il tecnico audio in animazione Ci vediamo alla prossima puntata della Mamadema Animation TV Ciao a pi!